il vice presidente della giunta regionale ha detto che lei rappresenta un po la marcia in più per tutto il tessuto economico pugliese insomma è un bel complimento io cerco di fare il mio massimo cerco di dare un po di più visibilità a questo territorio cerco di impiegare meglio le risorse insomma cerchiamo di fare quello che io normalmente faccio nella mia azienda e quindi cerco di trasferirla anche in camera di commercio presidente al di là delle parole di piemontese quali programmi quali strumenti ha intenzione di utilizzare per la ripartenza beh io spero veramente che arrivino al più presto il pnr quindi praticamente sarà una grande opportunità per per l'intero sud per tutta l'italia perché o prendiamo questo treno o non o rimaniamo rimaniamo a terra quindi io ritengo che questa sia una grande opportunità e noi dobbiamo cercare di sfruttarla al meglio lei ritiene che gli 80 miliardi cioè il 40 per cento siano sufficienti per il nostro sud beh si poteva fare qualcosa in più insomma onestamente però chi si accontenta gode cioè nel senso che cerchiamo di sfruttare questi 80 miliardi e sicuramente ci faranno diventare sempre minore il gap che esiste tra nord e sud c'è il pericolo così come prospettava la carfagna che non vengano utilizzati bene questi fondi beh il pericolo è uno solo è quello che ha detto poco fa qualche giorno fa il primo ministro draghi cioè la prima riforma da fare in italia è la semplificazione cioè noi dobbiamo semplificare tutti questi lacci e laccetti che esistono perché se continuiamo a tenere questa questa burocrazia purtroppo dico purtroppo non non potremmo andare avanti quali potranno essere per la puglia i settori trainanti ma i settori trainanti della puglia li abbiamo sono sono quelli che sono quella che è la vocazione del nostro territorio il turismo l'agroalimentare l'impresa quanto 4.0 cioè ci sono tante tante possibilità che la puglia a quindi è fino adesso la puglia ha dimostrato a livello sud di essere una delle delle regioni più virtuose quindi dobbiamo continuare su questa strada dobbiamo continuare sulla innovazione tecnologica dobbiamo continuare sulla digitalizzazione questi sono tutti i processi che servono e per per far sì che la puglia diventi tra le regioni più virtuose d'italia qualche giorno fa la msc crociere a taranto per la prima volta sarà che cambia l'aspetto di questa di questo capologo di provincia beh sicuramente questa è stata una bella notizia che abbiamo sentito insomma perché la msc attraccare a taranto quindi in puglia significa una buona ecco adesso bisogna secondo me creare rete tra questi questi porti anche pugliesi in modo tale da 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 renderli fruibili anche a manfredonia c'è un piano per del di una piccola di una piccola diciamo rete croceristica minore cioè minore significa con meno 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 persone ma ma abbastanza importante quindi questo è un altro segmento che può favorire l'incremento e può favorire lo sviluppo di questo territorio le navi di fascia alta diciamo esatto sono le navi di fascia alta che a manfredonia dovrebbero attraccare a manfredonia e quindi praticamente per la provincia di foggia sarà un'altra grande opportunità l'ultima battuta sulla provincia di foggia è più difficile rispetto alle altre province lei anche presidente della conf commercio presidente della camera di commercio di foggia perché perché c'è questa criminalità sempre sempre presente beh senza dubbio questo è un aspetto importantissimo cioè nel senso che è una piaga che o la debelliamo o altrimenti non risolviamo nessun problema gli imprenditori come nell'ultimo periodo insomma che c'è molta più propensione alla denuncia devono capire che è una piaga questa qui che se continua ad esistere vuol dire che non possono esistere imprese invece io sono convinto che l'impresa deve essere il motore trainante di questa provincia e nello stesso tempo debellare completamente questa brutta piaga che esiste qui da noi grazie a tutti